Siamo di fronte a un virus che rialza la testa, un virus che non conosciamo fino in fondo, un virus che è presente nella nostra comunità e che quindi richiede attenzione da parte della comunità perché se è vero allo stato attuale che il peso sull'assistenza ospedaliera non è importante, è altrettanto vero che non sappiamo come possa svilupparsi la situazione. Ricordo che i ricoverati con sintomatologia grave sono ricoverati che non hanno fatto la vaccinazione. Il Covid rialza la testa in Veneto e a Padova. Nelle ultime 24 ore sono aumentati del 70% i nuovi casi rispetto ad una settimana fa. Hanno superato quota 6.000 e casi attualmente positivi in tutta la provincia. I medici chiedono prudenza e soprattutto di continuare ad usare la mascherina in situazioni di assembramento. Sul fronte ricoveri la situazione è stabile, 52 le persone presenti in azienda ospedaliera, ben l'80% sono cosiddetti Covid per caso, solo 10 invece sono ricoverati per gli effetti del virus. Intanto l'azienda ospedaliera si organizza per fornire servizi più efficienti per i pazienti complessi. Sono operativi da qualche giorno 12 case manager, infermieri specializzati per seguire i pazienti che necessitano di un approccio multidisciplinare che riguarda più reparti. Le faccio un esempio concreto. Un paziente chirurgico complesso ha bisogno di fare una serie, stiamo parlando di quelli più complicati naturalmente, ha bisogno di fare probabilmente tutta una serie di esami complicati, ecco Doppler, l'Attac, i mezzi di contrasto, ha bisogno di fare una serie di consulenze con medici specialisti, penso all'oncologo, penso al radioterapista, oltre al chirurgo naturalmente. Allora si è riscontrato che avere una persona competente, quindi infermiere competente molto sul piano relazionale, perché ha a che fare anche con persone, con i propri familiari, facendo un po' da angelo custode, assomma tutti questi contributi singoli e poi offre un servizio personalizzato, proprio tagliato su misura del paziente.